1, 2, 3 e un avocado Eccoli Quest'oggi siamo qui per fare l'unboxing di Samsung Galaxy S10e, S10 normale e S10 Plus E un avocado Sono veramente curioso perchè li ho provati già a Barcellona nei vari centri commerciali in giro Però vediamo, vediamo, vediamo Da quale iniziamo? Iniziamo dal più piccolo, l'S10e, il modello più economico Qua abbiamo il magico sigillo di garanzia Bene E qui abbiamo il telefono Sacchete, sacchete Guardate che bellino Bang Ah, c'è sulla pellicola sua Top Molto bene Mettiamo un attimo qua Caricatore Adattatore USB USB-C Poi Cavetto USB-C di ricarica E E un avocado Come si apre Cufiattine HKG bianche Con tutti i gommini del caso E con questo cavetto ultra resistente Bene Poi Zang 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 S10 Figo Momento più bello dell'unboxing Mettiamo qui Nella confezione immagino che ci siano esattamente le stesse cose Quindi non stiamo ad aprirla Qua poi dietro c'è Solito manuale con il cosino per la sim E un avocado E quindi andiamo anche col terzo Questo ha due sigilli di autenticità Guardate Hanno appiccicato un adesivo sopra l'altro Vuol dire che è super autentico Non riesco ad aprirlo Voi non lo vedete Ma dietro di me Mr. Nobody Ciao Cioè ma Capite che C'è il sole Che va contro la finestra del condominio di fronte E mi sta illuminando a giorno È possibile questa cosa? Sembro Illuminato da una luce divina Dicevamo S10 plus Andiamo ad unboxare pure questo Zacc Zacc Ormai nelle scatole abbiamo capito cosa c'è Togliamo la nostra bellissima pellicola E qui abbiamo i nostri tre dispositivi Tutti e tre bianchi Così si possono confrontare molto semplicemente S10e S10 S10 plus E un avocado Madonna che belli Andiamo ad accenderli Uno Due E tre Yes we can Eccoli qui Uno Due E tre Tac Dandara Oh Account Google Sblocco con riconoscimento del viso Salve Dice che devo togliermi gli occhiali Eh Sì Ok Ok Accettiamo Impronte digitali Il sensore è qua sotto lo schermo Vedete Eh Sì Continua Va bene capo Sì Ce l'abbiamo fatta Eccoci qui Prima di parlare di quello che c'è dentro insomma Però parliamo un po' dell'estetica Abbiamo S10e Che è il più piccolino Con lo schermo totalmente piatto Solamente due fotocamere posteriori Quella normale e quella grandangolare Qua ci sono i tasti del volume Il tasto Bixby Jack per le cuffie Cassa audio Entrata USB-C per la ricarica Sopra c'è lo slot per la sim E qua di fianco c'è anche il tasto di blocco Che è anche scanner Per le impronte digitali Guardate che bomba Con il display che è totalmente piatto Da 5,8 pollici Leggermente più grande E con il display curvo ai lati Invece c'è l'S10 Con però lo sblocco di impronte digitale Sotto lo schermo Che non funziona Bene Fail subito Ok Con il display in questo caso Da 6,1 pollici E non cambia assolutamente niente Rispetto all'S10e Se non il fatto che è un pochino più grande E ha una fotocamera in più sul retro Che sarebbe il tele E invece assolutamente identico a questo Ma solamente un pochino più grande Abbiamo l'S10 Plus Sempre con lo sblocco Che funziona bisogno A premere un po' tantino Ehi Ok Che è assolutamente uguale Più grande Retro uguale Lati uguali Però qui in alto Non ha una fotocamera frontale Ma ne ha due Ora Primissima cosa da fare Cerchiamo uno sfondo Yeah Perché non c'è quello che dico io? S10 Plus Wallpaper si chiama sfondo Dov'è? Via Ringraziamo Andrea Galeazzi per lo sfondo Anche quello del rover di Marte Salva Ok No Tech Imposta come sfondo Guarda che bomba Molto figlio Guardate che top Con tanto di Mr. Novady sul divano Ragazzi Solo per questo motivo bisogna prendere l'S10 Plus Che figo È la cosa più bella del mondo Bene Ora Sapete meglio di me che a me non piace star qui a parlare di processori Di caratteristiche Che è così ma la primissima impressione che volevo darvi è che sono leggerissimi Cioè per le dimensioni sono tutti e tre super mega leggeri Da una roba pazzesca Dopodiché Così proprio a naso Questo sblocco con l'impronta digitale degli S10 e S10 Plus Non è che mi faccia impazzire Nel senso Quello del mio OnePlus per dire Secondo me è più rapido Però difficile dirlo così Bisognerebbe provarli Sicuramente vi farò sapere prossimamente Mi piace invece molto la soluzione di S10e sul lato Che è veramente comoda Efficace E via E così sempre a primissimo impatto al volo Lui L'S10e Che è il modello diciamo economico Il modello base Che non mi faceva in realtà impazzire Devo dire che È veramente comodo È delle dimensioni perfette Perché è proprio piccolo Comodo Non è il solito padellone L'S10e è un po' una via di mezzo E l'S10 Plus È bello grande Considerate che le dimensioni dell'S10 Plus Sono esattamente le stesse Proprio quasi al millimetro Dell'iPhone X Max Però Bilancia Abbiamo da una parte 207 grammi di iPhone E dall'altra 176 grammi di Samsung Che detto così Sembrano sostanze strane Però 30 grammi su un telefono Da 200 grammi Fidatevi che si sentono Proprio così A spanne S10 invece pesa 158 grammi E S10e 152 grammi Tra l'altro mi piace un sacco Questa animazioncina Che c'è attorno Alla lente Vedete Quando il telefono Sta per essere sbloccato Poi faccio così E si sblocca Non è affatto male Lo schermo curvo Ma non dà fastidio Come altri display curvi Ma il vero motivo Per il quale Secondo me Questi telefoni Sono veramente interessanti È la fotocamera Soprattutto perché Guardate Questo è l'S10 Si ha la possibilità Di avere la fotocamera normale La fotocamera tele Quindi quella bella zoomata Per fare i ritratti E bomba assoluta Secondo me Il grandangolo Cioè guardate che bomba Sto riprendendo praticamente Tutto lo studio Solamente con la lente del telefono Dovete vedere la faccia Di Mr. Nobody Cioè Era tipo Vi posso garantire Che è veramente Veramente Figo E soprattutto per me O comunque per gente Che fa tanti video Col telefono così Il poter andare in giro così E riprendersi Avendo una buonissima visuale È veramente tanta roba Quindi penso che questo Secondo me è la funzione Più interessante di S10 Perché Si altri telefoni Avevano implementato Fotocamere grandangolari O così Ma così bene Così ottimizzate E con la qualità Delle fotocamere di Samsung Che sono sempre state A un buonissimo livello Diventa molto molto interessante Anche per farci qualcosa di serio Per farci video su YouTube Per fare video un po' più seri Roba su Instagram Secondo me ci sta un sacco La fotocamera frontale Invece è assolutamente normale Anche qui c'è la possibilità Di avere un piccolo grandangolo Diciamo di effetto ottico Più che altro Mentre quella di S10 Plus È doppia In quanto una ti dà la possibilità Di fare le foto Con lo sfocato dietro Sostanzialmente Proprio a grandissime linee Ma la cosa bella È che sebbene sono Tre modelli diversi Le fotocamere Sono esattamente le stesse Cioè l'S10E Che ha quella normale Da 12 megapixel E quella grandangolare Da 16 megapixel Ha le stesse identiche fotocamere Degli altri due Che in più Hanno la terza fotocamera Tele da 12 megapixel E niente Io sono veramente curioso Sicuramente Proverò a registrare Qualche video Qualche vlog in giro Con uno di questi tre Alla fine sono Più o meno tutti uguali Giusto per fare una carrellata Di caratteristiche tecniche Tutti e tre hanno memoria In questo caso Da 128 giga 6 giga di RAM Per l'S10E E 8 giga Per gli altri due Poi per quanto riguarda L'S10 Plus C'è la versione super maxata Super costosa Che è tipo Con 12 giga di RAM 512 giga di hard disk Una bomba Google Chrome Google Chrome Ah ma c'è una pellicola Che non ho tolto Penso proprio di sì Oddio Era messa talmente Tanto bene Che non si vedeva Ultima cosa Che volevo farvi vedere E volevo provare Soprattutto È la ricarica inversa Infatti tutti e tre Sono dotati di ricarica wireless Quindi se noi lo andiamo a mettere qua Effettivamente si ricarica Ma la cosa veramente interessante È che c'è la possibilità Di usare la ricarica inversa Quindi attraverso un dispositivo Ricaricare un altro dispositivo Semplicemente mettendoli a contatto Tra di loro Ora in teoria Da qui Zacc Dov'è 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 Wireless Power Share Qua ci sono le istruzioni Bisogna fare una cosa di questo genere Connesso E effettivamente L'altro S10E Si sta caricando Ce l'ha anche l'S10E Questa roba Sì Quindi io posso caricare l'iPhone Con il Samsung Vediamo Proviamo Tac Funziona 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 Perché è lo standard QI Posso caricare Posso caricare le scarpe Nike Con il Samsung Questa questione del Wireless Power Share Sta degenerando Vediamo Sì Che bomba La faccia di Mr. Novady Che è sempre stata tipo Sto volando Sto volando altissimo Questa cosa Top raga E quindi questo era un rapidissimo unboxing E prima impressione su questi telefoni Non voglio annoiarvi ulteriormente Poi magari nei prossimi giorni Anzi sicuramente nei prossimi giorni Ne riparleremo Cioè questo sfondo qui Vale solamente il telefono direi Fatemi sapere magari Se volete dei video Su delle specifiche Caratteristiche di questi telefoni Delle prove Dei test Non ne ho assolutamente idea Magari anche un bel confrontino Col mio iPhone Non lo so E niente Dai Akidale E dai miei nuovi Tre Samsung S10 Era tutto Ci vediamo Prossimamente Aaaaaah